ciao questo è un nuovo video che solito che faccio sui film che riesco ad andarmi a recuperare nel guardare che visto che magari come film è uscito è uscito nel 2023 che adesso lo si può magari andarselo magari recuperare magari nelle solite magari piattaforme anche gratis e gli voglio marei dedicare questo video a questo film che si chiama palazzina laugh che a sua data d'uscita marei al cinema è stato il 30 novembre del 2000 2023 che è uscito l'anno scorso come film come film che è stato distribuito dalla bim distribuzione che che come film è italiano che 2 1 1 e 40 quasi 1 e 38 quei 99 minuti che come regia di questo michele riondino che come genere solito un rai drammatico che c'è sempre magari questo michele riondino elio germano e ma è questa vanessa scalera e magari gli attori che hanno partecipato marei in questo film marei li metto sempre sotto come faccio di solito sotto marei in descrizione li trovate che è visto che marei lo hanno messo marei sulle solite piattaforme li volevo marei dedicare questo video che come hanno marei del film e nel 97 questa alliva di tanto e appena marei avvenuta l'enenzima morte sul lavoro ma questo caterino lamanna operaio ha detto ai lavori di fatica nell'industria di sidenurgia e pronto marei a danne la colpa ai sindacati che sempre questo caterino è un cane sciolto che pensa al suo mai imminente matrimonio con la giovane albanese anna e si fa e si fa marei fatti suoi finché giancarlo basile proprio il dirigente di del proprio dell'ilva non le regolita per farsi un giro e dirgli quello che succede in fabbrica e anche mai magari questi reso conti in particolare le attività del sindacalista renato mora che infiamma gli animi degli operai e gli spinge spesso marei a marei alla ribellione e sempre questo basile e offre alla manna la promozione a caposquadra e li da marei anche l'auto aziendale ma caterino chiede di essere marei riservato a pochi eletti ma è in realtà è un edificio di diciamo in corso fa una riserva indiana è un manicomio e marei anche questa marei prigione dove sono rinchiusi in orario di lavori dipendenti qualificati che hanno mai fatto l'onda e qui e che quindi marei sono invitati marei a marei a licenziarsi o ad accettare un incarico marei demanzionato e incoerente con la loro ma alle loro marei prestazioni che più che altro marei la trama marei di questo di questo film e amarei questa qualche marei come tipo mai di trama ma ride come si dice ti deve marei un po magari piacere come come trama che non marei non è un po piacere marei marei a tutti però ne compreso mai essendo marei un film magari italiano magari ne compreso marei ci poteva marei anche anche stare che parla marei di questa vita marei degli degli operai che essendo marei che essendo marei uscito alla fine di novembre dell'anno scorso del 2023 come film che adesso lo hanno messo sulle solite piattaforme che lo si può guardare magari anche anche gratis come film e gli volevo magari dedicare questo video e portarlo magari sul mio canale che magari come al solito marei lascio sempre sotto in descrizione magari sia il cast degli attori che hanno partecipato e magari qualche altra informazione marei in più sempre sul film e anche magari il video il video trailer e niente quello che magari potevo dire su questo film marei l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente sicuramente marei più avanti con i miei magari soliti video che porto sul mio canale che quello che magari quello che potevo mai dire su questo film magari l'ho già detta e niente per adesso marei vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao